Ciao ragazzi! Allora, nel video di oggi vogliamo presentarvi i vari tipi di pubblico che incontrano un concerto di Donaforte. Sicuramente se avete assistito a qualche concerto, in qualsiasi occasione, ma soprattutto in teatro, vi saranno capitati questi tipi qui. Ora, ci sta che magari abbiamo lasciato fuori qualcosa, però bene o male le categorie da solo questo, se ne avete altre, scriveteli. Vieni con me, buona visione e rimanete fino alla fine perché alla fine c'è il backstage, che è più lungo al video, quindi stavolta va bene. Ciao! Senti questo brano bellissimo, la seconda fantasia di Schopenhauer, c'è un brano che mi strazia l'anima ogni volta che lo sento, senti che roba, senti che roba. Ma Schopenhauer è il filosofo? Sì, sapevo che c'è anche musica. Oh, quel pianista lì che sta suonando, una spanna sopra gli altri, veramente. Pianista che... Sì, no, però senti suonare così perché si sta scaldando, ma stasera... Ma quello che ha la chiave nel pianoforte? Perchè? Quello sta accordando il pianoforte, è l'accordatore. Pianista arriva alle 7. Ah, non possiamo possedere... No. No, no, no. No, 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 no. Vincito. No, 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 no. Ma ancora? Ma ancora! Questa è un po'. Sì. spaziale veramente maestro kissing bravissimo prima volta che la sento dal vivo un gioiellino un gioiellino comunque rivedersi qua sull'autobarca col pedale col pedale io l'avrei fatto in modo diverso devo dire la verità ma sciopero allora io perché conosco il direttore artistico non gli ho detto niente proprio siamo a noi dico ma chi inviti ma sconosciuti basta cioè ma io sono gratis ma sono gratis e Mozart voglio imparare di qui questo cortico ma dove l'ha visto c'è qualcuno che dice che la prassi di Mozart non è così scusi il posto è occupato questo qua davanti a lei guardi veramente c'è mia moglie che è andata un attimino in bagno vabbè tanto approfitto tanto mi siedo io ah che bello beh vedo davanti a te bis bis un altro ancora un altro sono le undici e me non c'è più il pianista il piatto forte non c'è più niente bis bis di chi sta purendo con la scopa bis di cosa di scopa scopa non c'è più niente non c'è più niente non c'è più niente bis di scopa non c'è più niente non c'è più niente Scusi, siamo qui, no? No, no, ancora non metterò. Grazie. Tra poco. Ah, adesso quindi... No, siamo qui, mancano cinque brani, cinque. Scusi, mezz'ora scelta, va? Grazie. Ecco. Ah, adesso allora... C'è veramente la torta per vedere il coso. Che non capisco bene. Lei le capisce? Sì, finora la giornata che era lanciato il programma è un casino. Ah, non è il programma questo? Ah, che pensavo che... C'è... ahhh 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 io ho un sacco ahhh 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 ok ahhh ahhh no no allora che due che due coglioni no 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 sto luglio il mosto senza lievi no cazzo figa cosa dico ahhh ahhh ehhh Baci noi! Tocca! E' come buona! Noiii! Continuavo figa! E' troppo bella! E' troppo bella! E' troppo bella! E' troppo bella! Tutta l'edizione? Sì! Sì! Ficca! Ficca! Questo è un V perplica un tatuaggio un tatuaggio 10 ore per un video di 5 minuti veramente